un fratello mi ha chiesto parla del digiuno per favore prima di tutto vorrei fare una dichiarazione esiste solo una dottrina che è vitale agli occhi di dio ed è quella della fede in suo figlio solo quella dopo aver detto questo adesso farò una dichiarazione che probabilmente mi attirerà addosso una valanga di pietrate ma non importa perché ci sono abituato tutto il resto è soggettivo sì soggettivo perché non so se avete notato ogni cristiano la sua opinione su ciò che dice la bibbia o la verità è una ma le interpretazioni sono mille ecco perché mi disturba enormemente quando le persone dicano non discutere con me discuti con la bibbia no amico mio discuto con te perché quella che mi offri non è necessariamente la verità ma la tua interpretazione della verità il modo in cui ti hanno insegnato di vedere le cose per anni e anni e anni come sei cresciuto la tua nazionalità la tua appartenenza religiosa la tua razza la tua età la tua condizione sociale il modo in cui tu interpreti una frase un versetto una ingiunzione che solo essere interpretata dal suo autore lo spirito santo e quello amore mio non sei tu quindi ciò che offro come risposta a questo fratello è la mia opinione della verità la mia opinione ok ciò che io credo essere vero quanto io reputo sia la risposta giusta alla sua domanda e se non sei d'accordo che dio ti benedica lo stesso immensamente ok un paio di constatazioni sul digiuno 1 nel nuovo testamento cioè a dire dopo la croche troviamo solo un paio di accenni al digiuno 1 negli atti 27 dove durante un nubifragio l'equipaggio della nave dove paolo si trovava non mangia per due settimane 1 negli atti 10 dove centurione cornelio spiega che mentre stava digiunando gli era apparso un angelo con delle istruzioni a riguardo simon pietro 1 in atti 14 dove paolo e barnaba hanno da nominare pastori anziani in varie chiese 1 in primo corinzi 7 paolo istruisce marito e moglie di non privarsi di attività sessuali se non per un periodo di digiuno e preghiera e se ce ne sono altri non ne sono al corrente ma in tutti questi passaggi vediamo che il digiuno non è mai stigato da dio ma sempre originato dall'uomo 2 il digiuno nel nuovo testamento non è uno strumento che dio da all'uomo per far sì che quasi sadisticamente l'uomo possa far cambiare idea a dio dio vuole fare una cosa ma siccome l'uomo digiuna e dio non la fa e ne fa una che non voleva fare prima che l'uomo digiunasse pazzia il digiuno nel nuovo testamento è una pratica con la quale l'uomo questo almeno dovrebbe essere il motivo per il quale digiuna una pratica con la quale l'uomo riesce ad estragnarsi dalla vita di tutti i giorni calmare la sua mente e concentrarsi sulla persona di dio con la quale desidera comunicare e passare del tempo in preghiera e conversazione tre non hai bisogno di fare la fame per poter convincere un dio che ti ama immensamente che desidera la tua felicità più completa e che ha dato la sua vita sulla croce per poterti salvare dalla morte dalla carenza non hai bisogno di fare la fame dicevo per ricevere qualcosa da lui tutto ciò che devi fare chiederglielo 4 probabilmente adesso alcuni di voi mi citeranno il passaggio dove gesù dice in matteo 17 21 e marco 9 29 questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno ok primo nei manoscritti originali la parola digiuno non appare e sembra sia stata aggiunta da traduttori molto più tardi comunque secondo le parole di gesù come ho detto diverse volte erano generalmente le parole di un rabbino ebreo rivolte alle pecore sperdute della casa di israele niente spirito santo di dentro niente potenza dovuta alla sua presenza niente colossesi 1 13 che dice dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio fatto compiuto finito non c'è bisogno di digiunare nei colossesi 2 15 cristo ha spogliato fatto compiuto finito i principati e le potestane ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce il digiuno è chiaramente non necessario per scacciare i demoni nel nuovo testamento la nostra autorità nell'opera completa di cristo è più che sufficiente 5 non hai bisogno di produrre nulla perché dio ti accetta né digiuno né opere buone dio ti ama e ti accetta così come sei quello che il digiuno e le opere buone fanno è aiutare te a sentirti meglio a perdere qualche chilo ma l'opinione che dio ha di te non è mai basata su ciò che fai ma unicamente su chi sei sei un figlio una figlia di dio dio ti ama immensamente che tu mangi o no un abbraccio